SpaceX, ma quale pesante! Viene accesa la macchina del fumo. Montaggio. Quella non è una scia di condensa recente. Il traffico aereo non dovrebbe essere sgombro per miglia e miglia. Ora vediamo alcune cose che non si conformano. Montaggio. 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 La mancanza del sole. Il sole è là. Montaggio. Il fumo è molto sotto al razzo. Il fumo è sopra, fino al razzo. Sollevando oltre 3 milioni di libbre, nessun effetto sulla parte superiore del fumo. Il fumo arriva dal suolo e non dal razzo. SpaceX, fuck nevi, go for lunch. Fuck nevi, go for lunch. Adesso, nessun fumo. Se credete che questo sia il lancio di un vero razzo, avete ricevuto con successo il lavaggio del cervello. È una truffa!